Buona giornata, buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 16 dicembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi. Oggi è Santa Adelaide, Santa Adelaide imperatrice, visse nel X secolo, sposò Ottone I imperatore Sassone, divenne poi reggente del figlio alla morte del marito, rese l'impero con rara saggezza dicono le cronache. Infine si ritirò nel monastero di Selsi in Alsazia dove morì santamente, era l'anno 999. Questa è Santa Adelaide, visse appunto nel X secolo. Era imperatrice, eccola qua. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Questa mattina il cielo si è schiarito e c'è una residua instabilità. Nei settori centro-meridionali della nostra regione con piogge intermittenti e nevicate oltre 500-700 metri. Il clima è piuttosto freddo, le temperature 9 è la minima, 10 la massima. I venti sulle coste spireranno da nord e nord-est, mentre nell'interno da sud e sud-ovest. Il mare è mosso, il sole sorgerà alle 7.34 e tramonterà alle 16.30. Ed ora apriamo i giornali dopo queste premesse e vediamo l'apertura sul Corriere Adriatico per quanto riguarda la pagina di Fano. La pagina di Fano evidenzia l'inizio di importanti lavori, quelli della costruzione dell'asilo nido di Bellocchi. Sappiamo quanto è importante la realizzazione degli asili nido per consentire alle famiglie giovani, i cui genitori lavorano entrambi, di poter avere un luogo dove mantenere il proprio figlio con tutta sicurezza. Prima pietra del nido di Bellocchi. Prometto anche la scuola media, ha detto ieri il sindaco quando ha appunto depositato la pergamena con le firme appunto degli assessori che hanno approvato questa realizzazione all'interno della prima pietra. Il sindaco avvia il Cantieri dell'Opera che costerà oltre 2 milioni di euro, servizi essenziali per tutti. E una delle realizzazioni, queste dei tre asili nido che la Giunta si è decisa a realizzare, uno è quello già inaugurato per quanto riguarda il cantiere, non la realizzazione, presso la scuola di Cucurano Carrara, appunto ieri quello di Bellocchi e poi ce ne sarà un terzo al Vallato. Ed è importante questa realizzazione perché consentirà a 45 bambini suddivisi in tre sezioni di appunto dimorare in questa struttura. Una delle più belle perché poi è fatta con materiale ecocompatibile insomma che consentirà anche un buon risparmio energetico. All'interno ci sarà una sala polivalente, uno spogliatoio, tre aure, una lavanderia e un ufficio. Tutto quanto sarà pronto alla fine del 2025 e quindi ci sarà un po' da aspettare ancora per avere questa realizzazione. Ma l'importante è quello che ha evidenziato Seri che ha detto che lungo la Flaminia in questi ultimi tempi si sono finanziati ben 15 milioni di euro e quindi anche le frazioni hanno avuto attenzione da parte della Giunta. Invece in quest'altro articolo di Spalla abbiamo delle critiche che vengono evidenziate da parte dell'Udici in merito a un progetto fino adesso mancato, quello della rivalutazione del quartiere Ciano. Un quartiere immaginato negli anni 30, i quartieri Ciano erano dei quartieri che venivano dislocati un po' in diverse parti della nazione. Ebbene, questo quartiere è un quartiere particolare, una dimensione di carattere residenziale ma anche lavorativa, ora è un po' in degrado e quindi l'amministrazione comunale aveva deciso di inserirlo nel progetto Pinqua che però non è stato realizzato, ora invece tenta di giocare un'altra carta. Questa però viene considerata una foglia di fico quest'ultimo tentativo da parte di Stefano Pollegioni dell'Udici, una foglia di fico in salsa pre-elettorale, un laboratorio promosso dal vice sindaco Fanesi per disegnare il futuro del villaggio Ciano a San Lazzaro, un quartiere dimenticato, questo secondo quanto considera Stefano Pollegioni. E poi invece qua vediamo un articolo molto interessante per coloro che si trovano in una situazione precaria perché oberati dai debiti. Ebbene, quando uno ha un debito che non riesce a risolvere, si amareggia per buona parte della sua vita. Ebbene, oggi c'è una luce in fondo al tunnel. Il Comune di Fano ha stabilito una confezione con un'associazione, si chiama Associazione dei Diritti dei Debitori, la quale può operare un piano di rientro che però verrà convalidato dal giudice del Tribunale di Pesaro. Ovviamente il debitore deve mettere a disposizione tutto quello che ha per pagare le somme che deve al suo creditore, ma potrà trattenere di che vivere. Quindi se dovrà per forza di cose dare la propria casa, potrà trattenere una somma per pagarsi l'affitto e quindi potrà continuare a vivere, potrà avere di che per ricominciare una nuova vita. Pagare i debiti ma senza strangolarsi. Piano di rientro, il Comune è garante. E' una norma, questa sancita da un decreto legge del 2017. E appunto questo ha determinato l'accordo con le associazioni autorizzate. Ieri questa iniziativa è stata presentata dall'assessore alle finanze, Sara Cucchiarini, dall'assessore al welfare di comunità, Dimitri Tinti, e dalle rappresentanti dell'Associazione dei Diritti dei Debitori. Abbiamo Sabrina Breda, che opera a livello nazionale, e invece la referente di Pesaro è l'Avvocato Riccarda Grandoni. Vediamo ora le altre notizie. Passiamo ad Acqualagna, dove il consigliere Rossi evidenzia un'altra situazione critica della viabilità per quanto riguarda il viadotto del Pagino al termine della Galleria del Furlo. E' pericoloso, accelerate i lavori, ha detto Rossi. E' un intervento, quello che viene eseguito, che va troppo a rilento. Impegnati da mesi solo due operai. E questo ovviamente non va bene, perché quello è un tratto molto pericoloso e deve essere rimesso in sicurezza al più presto possibile. E poi torniamo a Fano, perché il Corriere Adriatico pubblica una presa di posizione di lupus in fabula in merito allo zuccherificio. Sappiamo come quest'area, dismessa da tantissimo tempo, è stata ora presa in considerazione dall'amministrazione comunale perché i proprietari hanno presentato un progetto per realizzarvi un polo. Un polo che riguarda il deposito di merci, un deposito insomma di sostanze, di prodotti di carattere industriale. Questo non va bene, secondo lupus in fabula, in quanto così si disattendono tutte le proposte che sono state fatte in questi ultimi anni, sono state fatte iniziative di coinvolgimento della città, sono sorte così proposte che riguardano la città della moda, del polo dei servizi pubblici e privati, la cittadella dei giovani, Green Village, New Town, insomma tutte queste proposte ora vengono gettate nel cestino perché si privilegia la proposta dei proprietari dell'area. Non si possono fare commenti in merito a questa decisione, fatto sta che se si lascia le cose come stanno, quell'area rimane indegrando da ancora chissà per quanto tempo. E quindi l'amministrazione comunale di fronte a un bivio o accettare le proposte dei privati, contemperandole ovviamente in senso compatibile, oppure lasciare le cose come stanno perché queste proposte emerse dalla cittadinanza non sono state mai realizzate. E passiamo ora alla Val Cesano, anzi siamo a Frontone. Siamo a Frontone ma siamo anche in tanti altri borghi della provincia perché questo articolo riguarda tutte le manifestazioni del Natale più. un Natale veramente che nella provincia di Pesaro-Ulpino si presenta e ha un suo valore a livello nazionale. Bosco fatato, villaggio di ghiacce, sogni e fantasia animano il Natale. Beh, questo è un bellissimo titolo. Decine di natività, musica, bolle giganti e la festa che non ti aspetti nei borghi e nei paesi. Ho menzionato prima Frontone perché a Frontone ci sono tante iniziative in questo magico borgo preapenninico con questo suo castello che costituisce veramente un presidio che fa atmosfera, che fa calore, che fa suggestione di un tempo che è passato. E poi Mondolfo chiude in bellezza domani, domenica 17, con il borgo immesso nell'atmosfera magica di due grandi alberi di Natale. Ferminiano entra nel vivo oggi con gli eventi a teatro, i mercatini e poi ci saranno anche i laboratori per bambini e tante altre iniziative. A Barti oggi pomeriggio alle 16 un appuntamento in piazza Vittorio Emanuele per aspettare l'arrivo di Babbo Natale. Domani debutta il Natale a Canavaccio con l'addobbo e l'accessione dell'albero di Natale e del presepe artigianale da parte dei bambini delle scuole. Ci sono tantissime altre iniziative che fanno veramente brillare i centri della nostra provincia, quelli colinari, quelli vallivi. Insomma, vista dall'alto, la provincia di Pesaro è veramente una provincia natalizia. Vediamo anche Senigallia. Cosa dice Senigallia? Anzi, a Senigallia si parla di un processo che si continua a tenere davanti al giudice di Ancona. Quante irregolarità alla lanterna di Corinaldo, ma si è sempre chiuso un occhio. Il PM Gubinelli nella requisitoria dice «Quella notte ero sotto sciocchi il nostro lavoro dedicato alle vittime». Ebbene, quella notte alla lanterna azzurra non doveva esserci nessuno, perché quella notte la discoteca era aperta in virtù di autorizzazioni che erano illecite. Questa è quanto ha detto il PM Gubinelli nella sua requisitoria. Si sono trovate tante carenze, tante mancanze. Ora sarà il giudice poi a dover decidere sulla sorte degli imputati. Le richieste finali per i nuovi imputati sono quelli di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, falso e disastro colposo. Sono piuttosto imputazioni gravi quelle che vengono appunto elevate. Ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesalo, dove si parla di un incontro che c'è stato in prefettura. Il prefetto ha riunito tutti i sindaci del territorio per concordare sulla mappatura di tutte le telecamere che ci sono nella provincia. Una mappatura importante, perché se accade un episodio dell'ordine pubblico in un determinato posto, ebbene gli inquirenti, la polizia, i carabinieri, sanno subito dove le telecamere più vicine possono aver ritratto qualcosa utile per le indagini. Una mappatura che è una delle prime a livello nazionale. Si chiama Sofia, la mappatura. Mapperà le telecamere il prefetto, noi primi in Italia. Grazie ai comuni aderenti al patto, si consentirà la geolocalizzazione della videosorveglianza. Il questore dice piano tattico controllare la città è vitale. Ormai le telecamere sono veramente un ausilio, un sussidio importante per ogni indagine effettuata appunto dagli organi di tutela dell'ordine pubblico. Il sindaco Ricci, la droga e i furti, i nostri nodi. Sono questi appunto gli episodi che più gravano sul nostro territorio. Ma qua vediamo nella fotografia tutti i sindaci schierati con le fasce tricolori accanto al prefetto, al prefetto che ha convocato questa riunione importante. Saveria Greco. Sotto le feste i centri storici saranno sorvegliati speciali. E questa è un'altra riunione che si è svolta in prefettura dove si è riunita la commissione che si occupa della sicurezza e della vigilanza. Sotto le feste i centri storici saranno sorvegliati speciali perché appunto è sotto le feste che la malvivenza alza più la cresta, insomma si fa più viva, compie più furti e anche le strade saranno più controllate da parte delle forze dell'ordine. Sono queste le direttive emerse nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza convocato dal prefetto. Quindi ci sarà molta molta più attenzione e probabilmente anche più uomini in strada, più uomini nel territorio. Giardino e Barra, la San Giovanni, la Biblioteca San Giovanni di Pesaro via alla seconda vita della Biblioteca. Si recupereranno gli spazi verdi e ci sarà un rilancio del polo culturale. Ebbene questo ovviamente si inquadra in tutte le iniziative di Pesaro, città capitale della cultura a livello nazionale. Giriamo ancora la pagina, saltiamo questo articolo, vi dico brevemente, si tratta di un piccolo tesoro di carattere culturale che ha l'amministrazione comunale di Pesaro custodito nei musei di Palazzo Mosca. Ebbene questo piccolo tesoro, sono due colonnine che riproducono la colonna di Traiano a Roma, verranno cedute per una mostra nei pressi del Colosseo a Roma. Però questo suscita un po' di polemiche perché a Pesaro ormai tutto quello che è di cultura si dovrebbe trattenere in vista del prossimo anno. Le sale gioco al setaccio della polizia, c'era chi premiava i clienti più fedeli, sono stati controllati 11 centri di slot e di scommesse, identificate 29 persone, l'attività a Pantano rischia una chiusura per 15 giorni per le irregolarità che sono state riscontrate. Arrestato, ancora per la cronaca, un 45enne con l'app purtroppo scaricava e scambiava video pedopornografici. La polizia postale ha sequestrato il computer dell'uomo e dopo la convalida il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Ovviamente il computer è stato oggetto di indagini serrate. Vediamo anche la pagina di Urbino, dove vediamo che è stato operato all'ospedale di Urbino l'assessore regionale all'urbanistica, all'ambiente e tutto il resto Stefano Aguzzi. Viva la sanità pubblica, ha detto Aguzzi, che è stato operato al ginocchio sinistro. Aveva il menisco rotto da tantissimo tempo, si è deciso dunque di operarlo nel giro di una giornata e già in piedi. E lo vediamo qui, magari con le stampelle, accompagnato da tutta l'equip che ha realizzato questa operazione. Ebbene, Aguzzi, contento, sorridente, dopo l'intervento, ha elogiato la sanità urbinate per la professionalità dimostrata. E con questo chiudiamo il Corriere Adriatico. Ora apriamo il resto del Carlino, dove nella pagina di Fano vediamo un articolo che tira in ballo il sindaco Massimo Seri, che parla di politica. Seri sui candidati, le primarie sono l'unica strada, secondo lui. L'appello del sindaco, l'obiettivo è unire, se c'è qualcuno in grado di farlo, fuori i nomi. Ed è ancora complessa l'operazione, intentata in tutto il centro-sinistra, di individuare, prima di tutto i programmi condivisi da tutti e poi anche il candidato sindaco. Però, insomma, la candidatura di Etienne Lucarelli ottiene ovviamente le soddisfazioni del sindaco Massimo Seri, il quale fa un esame di tutte le difficoltà che sono presenti in questo momento nel centro-sinistra e che dovrebbero essere risolti in una riunione. Ci sono state riunioni in questi giorni molto molto serrate, ma la riunione principe è quella di lunedì prossimo, dove potrebbe sorgere il candidato condiviso, il candidato unitario, ovviamente prima i programmi. Ebbene, qual è la difficoltà ancora? Il PD non ha espresso nessuna figura. Pare che il candidato più probabile sia Cristian Fanesi e c'è il problema delle primarie. Si sa come la proposta di Samuele Mascarin non vada bene a molti del centro-sinistra, mentre altri l'accettano e questo suscita ovviamente dei contrasti. Nel centro-destra invece si decide dopo Natale, mentre circola un nuovo sondaggio, questa volta pare commissionato da Giuseppe De Leo, ma sembra che la Lega punti su Gianluca Ilari. Questo nome l'aveva già fatto il resto del Carlino e lo rifà ancora nella giornata di oggi. Così in Comune ha tentato la scalata ai vertici dei Verdi. C'è un retroscena in questo articolo, rivelato da Michele Mattioli, responsabile della Forza Politica dei Verdi, il quale dice che la lista civica in Comune, quella che fa capo a Samuele Mascarin, avrebbe intentato la salita nel partito dei Verdi. Un partito che non ha tante adesioni, ma che ugualmente è importante. Si parla di 500 voti che riesce ad ottenere. Ebbene, in Comune, questa lista civica della sinistra avrebbe cercato di inserire suoi esponenti all'interno dei Verdi per poter magari condizionare l'appoggio di questo partito nei confronti di Samuele Mascarin, che è un candidato sindaco. Qui si fa il nome di Carla Luzzi, eletta con la lista in Comune, e poi ancora da Emanuela Giovannelli, che ha l'ufficio a fianco a quello di Mascarin, dice Michele Mattioli, e anche la compagna dell'assessore, tutte persone riconducibili solamente alla sua figura. Insomma, non c'è ancora una grande intesa tra i Verdi e l'assessore Mascarin per questo momento, ma può darsi che le cose cambino. E vediamo anche come il problema dei fondi del Carnevale che sono stati privati al momento, almeno dalla Regione. La Regione l'anno scorso aveva dato 40.000 euro, quest'anno nel bilancio non c'è un centesimo, però sembra che i due consiglieri che rappresentano Fano, anche se siedono su seggi opposti, Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle e Luca Serfilippi della Lega, abbiano presentato un emendamento per destinare almeno 100.000 euro, secondo la Marta Ruggeri, forse un pochino di meno, secondo Serfilippi, comunque al Carnevale di Fano dovrebbero andare 50.000 euro. E vediamo se questo emendamento sarà approvato in extremis. Abbiamo anche l'articolo che riguarda l'asilo nido di Bellocchi, sul resto del Carlino, partono i lavori per l'asilo nido, festa di quartiere a Bellocchi, dove i bambini della Fabio Tombari hanno reso più allegra questa festa. Castellani, così ci ha truffato. Questo è un articolo pubblicato oggi dal resto del Carlino che rievoca la questione giudiziaria che ha dovuto sostenere Leandro Castellani nei confronti di un suo amministratore. È cominciato ieri a Roma il processo per una maxitruffa milionaria, si parla di 3 milioni, ma anche una cifra più consistente, fino ad arrivare addirittura a 10 milioni di euro subita dal regista Leandro Castellani. Ed è stato proprio lui a raccontare ai giudici quello che è avvenuto tra il 2017 e il 2018, dopo aver conosciuto il consulente finanziario Pericle Cenci, di 48 anni di Cassino, ma residente in Svizzera. Secondo l'accusa e secondo il racconto di Castellani, l'imputato avrebbe fatto sparire almeno 3 milioni di euro dai conti della disponibilità finanziaria di Leandro Castellani. E quindi ora si va a processo. Vediamo ora qualche notizia che riguarda Pesaro sul resto del Carlino. Vediamo di arrivare alla prima pagina. Eccola qua. Eccola qua. La prima pagina. Malore fatale. Alice aveva 21 anni. Questa è una disgrazia. Una ragazzina, Alice Tiberi, che viveva a Mercatale di Sasso Corvalo, è deceduta. È morta dopo una settimana, dopo essere stata ricoverata all'ospedale di Torrette e oggi si terranno i funerali. Biancani davanti a Vimini, ma il partito delle primarie non ha mollato la presa. Duello per la candidatura e consultazioni a passo lento nel comitato comunale Dem, anche a Pesaro. Insomma, il partito democratico è in momento di discussione e di verifica all'interno. Voglio terminare la rassegna stampa di oggi con questo articolo di Pesaro sul resto del Carlino. Valanga di multe non pagate e perse, ma Aspes presenta lo stesso conto per gli accertamenti 200.000 euro. Vengono pubblicati i dati sui crediti inesigibili che si riferiscono alle sanzioni elevate dalla Polizia Municipale. E questo per il momento è tutto. A questo punto non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento per lunedì prossimo, sempre alle 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.